by night I love studio 100 by night, il microfono in bocca Allora Francesca, intanto ci dici quali sono i lavori che stai preparando Mi vedrete nuda prossimamente Senti, è una piccola anticipazione, vabbè, intanto dici la verità, non è nuda proprio No, mi vedrete nudo integrale, proprio, sì, sì, sì Aspetto una Mi vedrete le scosciature, ma veramente nudo proprio, dalla testa ai piedi, sì Vabbè, è un'anticipazione Per chi vuole vedere, piacciono le donne in carne, insomma, quelli che vi piacevano oresti che andrete a comprare il nostro calendario Certo Io sono formosa, sono cicciottetta Ah ma c'è perizione, mettermi bene Ma guarda questo, mi stai mettendo le mule, vai alle mutande No, non è vero Che buona polizia Non è vero, non è vero Aiuto, un mascalzone Allora Francesca, intanto ci dici quali sono i lavori che stai preparando Mi vedrete nuda prossimamente Senti, è una piccola anticipazione Vabbè, intanto dici la verità, non è nuda proprio No, mi vedrete nudo integrale, proprio, sì, sì, sì Aspetto una Vedrete le scosciature, ma veramente nudo proprio, dalla testa ai piedi, sì Vabbè, è un'anticipazione Per chi vuole vedere, piacciono le donne in carne, insomma, quelli che vi piacevano oresti che andrete a comprare un altro calendario Certo Io sono formosa, sono cicciottetta Ma guarda questa, mi sta mettendo le mule, vai alle mutande No, non è vero Che buona polizia Non è vero, non è vero Aiuto, un mascalzone Andiamo di là, d'attimo Tutte le notti, dopo la mezzanotte, su Studio 100 by Night Com'è questa esperienza? Ok, grazie per aver stato con noi Ok, grazie per aver stato con noi Ok, grazie per aver fatto L'uomo del bario Oh, cazzo 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 Oh, cazzo